Una mobilitazione per dire no alla chiusura dei reparti dell'ospedale di Polla e allo smantellamento della sanità pubblica. La FIALS Salerno è in prima linea per tutelare Luigi Curto di Polla, per questo la segreteria provinciale del sindacato guidato da Carlo Lopopolo scenderà in strada il prossimo 23 maggio a partire dalle 10 nella cittadina valdianese. Siamo al fianco delle comunità del Vallo di Diano che lottano per il diritto alla salute, ha detto Lopopolo. La carenza di medici in primis e di tutto il personale sanitario mette a rischio l'esistenza di un centro nevralgico riconosciuto DEA di primo livello, uno snodo fondamentale che serve tutto il comprensorio che comprende circa 70.000 abitanti e che dista da altri ospedali almeno 50 chilometri. Secondo la FIALS Salerno, il presidio di Polla è attualmente nell'impossibilità di erogare i livelli essenziali di assistenza e si regge sulla perseveranza del personale sanitario che non abbandona la barca per puro spirito di servizio. L'alternanza politica, proseguito Lopopolo, non modifica sostanzialmente il sistema, ormai volto all'accentramento dei servizi nei capoluoghi principali della regione. A Polla esiste una criticità dei reparti di cardiologia, oculistica, otorino, neurologia, fisiopatologia respiratoria, urologia, diabetologia, ortopedia per non parlare del punto nascita in deroga, delle lunghe liste d'attesa per visite specialistiche e dei consulti che poi non trovano risposte nemmeno a livello distrettuale. La FIALS Salerno perciò si fa portavoce delle delusioni dei cittadini e il 23 maggio scenderà in piazza.